Sbarra, suolo, anelli e volteggio. Per le ragazze non ci sono le parallele simmetriche. Mi piacciono soprattutto gli esercizi al suolo, perché puoi sfogarti e fare delle belle coreografie. Flick-flack, salto raccolto, capovolta. Nella ginnastica gli apprezzi si usano quasi tutti. Agilità, forza, concentrazione e coordinazione. Dislocazione all'invietro e poi di nuovo spinta in avanti. Magliette e pantaloncini e via! Si parte! Agilità!